c'è una moglie che si mette una vestaglia tutta trasparente senza indumenti sotto passa davanti al divano dove c'è il marito seduto che legge il giornale il marito va a vedere fa mamma mia amore quanto sei sexy dice lo so ma ha detto pure il commesso quando ho provato al negozio